In che anno siamo? 1941. Che giorno è oggi? Mercoledì, credo. Molto bene, con la massima brevità. Sa leggere nel pensiero? Affrettatemi e ammirate i misteri dell'universo! Ti darò il mondo e ciò che contiene. Di che cosa parli? Lettura del pensiero. C'è una donna, Abigail. Ottimo! Insegnami. Insegnarti? Tutti hanno delle ombre nel loro passato. Oh, tu porti guai, vero? E se ti dicessi che posso mettere su un numero a due per noi? Qual è l'oggetto che ho in mano? Un orologio da taschino. Esatto. Maestro Stanton, può gentilmente le care... Posso farlo io? Cosa c'è dentro la borsa? Una piccola pistola. Lei non è indecifrabile come crede. Gestisce una troffa come me. Se mi aiuta, noi possiamo lasciare un segno indelebile in città. Mi conosci appena. Lo so. Sei disonesta. E lo so. Perché lo sono anch'io. Questo non è un trucco da baraccone. Se fai un passo falso, cadiamo in due? Abbiamo avuto degli incantatori di serpenti in passato. Ce ne occupiamo. Che cosa hai fatto, Stan? Perché l'hai messo? A volte non vedi il fondo finché non lo tocchi. Tu non inganni le persone, Stan. Si ingannano da sole. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Più. Grazie a tutti.